Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo momento mi trovo a Sierikin, in metto alla foresta del Borgno, nel confine tra Malesia e Indonesia. Un posto bellissimo, qui in questo luogo, innanzi a me, vi è un mercato all'aperto, perché è una zona di scambio, qui arrivano dall'Indonesia diverse persone, qui scambiano, c'è una specie di baratto, comprano, vendono, e vi mostro un po' le immagini, perché questo è un posto veramente autentico, vi ho fatto vedere le bancarelle, i negozietti a Kuala Lumpur, tutta una cosa finta per il turista, qui veramente è tutto vero, di persona con le sembianze occidentali ci sono solo io e probabilmente qui ben pochi mi arrivano, continuiamo il mio giro, come al solito ho appoggiato la mia macchina fotografica in un posto abbastanza insolito, me la riprendo così mostro anche a voi le immagini. Ecco, qui abbiamo un po' quello che è il mercato locale, abbiamo dei tuberi, questi qui si vedono anche in Russia, sono essenzialmente dei tuberi, qui abbiamo, adesso vi mostro, praticamente questo qui è il regno dei tuberi, ce ne sono a milioni, ecco, lì sono dei pomodorini ancora cerbi, piccolissimi, non so se ce ne fanno, forse non sono neanche pomodoria, perché il pomodoro comunque è una pianta autottona del Sud America, non so se saranno piante della stessa specie, guardi. E qui il tour conchina, come vedete, qui è tutto molto semplice, qui abbiamo un altro tipo di pianta, eccoci qua. E mentre più avanti abbiamo anche dei negozietti, nel prossimo dei negozietti, dei chioschetti all'aperto, nel prossimo videoclip vi mostrerò quello che c'è più avanti.